Una piazza a Don Gilberto Pozzi, lo Schindler di Clivio, lo hanno chiamato il partigiano di Dio, nel libro scritto a quattro mani da Gerardo Severino e Vincenzo Grienti. Don Gilberto era parroco in Val Cereso nel 1943, quando si scontrò con la dura realtà delle leggi fascistissime e con la fuga di tanti ebrei dal terrore della deportazione. Fu proprio lui, insieme al maresciallo della Guardia di Finanza Luigi Cortile e alla signora Nellina Molinari, a rendere operativa una vera e propria rete clandestina che permettesse i tanti fuggiaschi di raggiungere la Svizzera, dove la guerra e la mano del nazifascismo non potevano arrivare. Alle geste eroiche di un uomo giusto, la piazza del paese, onorate dal sindaco Giuseppe Galli e dalla presenza del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, insieme agli altri primi cittadini del territorio. Un segno di riconoscenza indelebile e tangibile per una storia che non deve essere dimenticata.